buonasera buonasera a tutti eccomi qua per il nostro appuntamento serale ormai è una un'abitudine davvero simpatica che spero vi piaccia e e perché ci sono sempre tantissime cose da dire quando si vuole parlare di scienza e meteorologia un po' di tutto c'è davvero tanto se si vuole eh io vi presento la mia immagine non ho resistito anche stasera ho messo ho inserito eh una passeggiata sulla sulla luna diciamo sulla sabbia eh non è il Sahara ma come ben sapete da ieri eh le nostre montagne oggi anche le Alpi ma questi sono i Pirenei eh hanno avuto un eccezionale innevamento un eccezionale insabbiamento se vogliamo in cui la sabbia del deserto è caduta sopra la neve presente questo perché c'è stata una avvenzione calda molto intensa che ha portato in carico con correnti molto molto forti da dal l'entroterra sariano a tutte le quote eh pulviscolo eh diciamo sabbioso che poi è ricaduto sui rilievi una volta sovraggiunto in Europa e mh allora vediamo che cosa sta succedendo per e cosa quale sarà l'evoluzione eh attuale eh e iniziamo come sempre io la farei partire dalla vediamo se vi riesco a condividere eccolo qui eh io direi però di andare subito su prima sulla nostra immagine satellitare vi apro direttamente il sito vedete qui questo è il sito meteoscienza andate sulle immagini satellitari e vi compaiono tutte e guardate qua guardate cosa ho davanti questa è una perturbazione eh che questa è l'Italia che è proprio a ovest delle regioni italiane è enorme è molto estesa questo perché eh la riflettività che eh presenta l'infrarosso ehm ecco adiuvata oltre dal che dal vapore acqua da altri nuclei di condensazione di riflettenti che sono eh che è la sabbia eh del deserto e poi i dà diciamo i gli elementi eh i granuli che eh si uniscono alla al vapore acqua e formano questa enorme distesa questa enorme eh banda nuvolosa che altri non è che la perturbazione che poi ha portato eh la sabbia tra Francia e Spagna soprattutto eh da guardate questa immagine qui ecco si vede vi metto anche il dettaglio italiano questo è il dettaglio italiano vedete che è presente anche in Italia sebbene in maniera molto minore eh va bene adesso mh abbandoniamo un po' il capitolo sabbia vediamo che cosa può succedere per quanto riguarda la nostra previsione interrompo la condivisione e passiamo alle carte che vediamo sempre eh e anzi torno dove ero perché vi devo far vedere le altre carte in effetti e mh eccole qui andiamo al sito faccio tutto da metterscienza oggi vedete come orientarvi vedete qui ci sono dove link utili global model troposfera ci sono tutte i principali modelli vado come al solito a letter centrale questo tedesco qui ritroviamo la nostra perturbazione e andiamo a vedere questa è la situazione attuale in questo punto questa chiazza più chiara è la grande depressione che con la sua col suo richiamo di corrente meridionale nel merideraneo centrale ha generato eh la formazione di quella grande banda devolosa e la che ha condotto ha portato eh dall'entroterra la sabbia nel tutta l'Europa occidentale qui come vi dicevo ieri c'è il nostro eh nucleo gelido con meno quaranta in quota e proprio il centro situato al momento al confine tra Kazakistan e Russia sud orientale vi faccio vedere come sempre l'animazione quando proprio l'animazione oggi vedete guardate seguitelo ve lo indico col cursore eccolo arriva sul Mar Nero qui siamo al diciannove ecco qui diciannove venti venti si stacca questa cellula fredda che comunque riesce a influenzare l'Italia vedete fa un po' avanti e dietro ma nel periodo vi faccio un fermo immagine eccolo qua nel periodo tra questo è il ventidue e il ventitré diciamo va interessare vado un po' più indietro eccolo questo è il venti dal ventuno guardate la più interessa comunque tutte le i settori centro meridionali italiani con un afflusso freddo che comunque potrebbe portare e ve lo faccio vedere potrebbe portare delle eh dei rovesci devosi eh nel medio basso adriatico al sud ma non solo visto che comunque arriverà una una cellula depressionaria nelle nostre regioni e che comunque con riscaldamento di urno ormai che si inizia a far sentire essendo la seconda metà di marzo potrebbero esserci anche dei rovesci dei rovesci che sconfinirebbero dal lato tirrenico con nevicate come quello che ho beccato io per esempio nella nella in appennino dal lato tirrenico anche a quote piuttosto basse e adesso vi ricondivido lo schermo e andiamoci adesso andiamo a vi faccio vedere l'altra immagine eccola qui e questa è la carta che mi ero che oggi avevo diciamo disegnato guardate qua questa è il nucleo gelo che nel momento in cui si avvicina maggiormente all'italia è tra puglia e nel basso atriatico proprio sullo stretto di otta otranto eh si allunga con una meno trenta in quota fino a tutta l'italia centrale e con questa circolazione depressionale che quindi questa è una carta del ventidue marzo si era potrebbe andare proprio nel periodo dell'equinozio a interessare con innanzitutto una diminuzione delle temperature ma poi anche con eh rovesci nevosi eh nell'appennino centrale e centro meridionale in genere quindi il freddo arriva arriva questo eh questo è quanto possiamo sperare al momento ma comunque attenzione che sarà un periodo di quattro cinque giorni piuttosto freddo che inizierà venerdì e tenderà a terminare tra martedì e mercoledì con più diluzioni fredde sempre limitate al settore mh centro meridionale italiano o meglio domenica sarà una giornata molto fredda ovunque lo sarà anche al nord eh mentre martedì ci sarà un nuovo nucleo gelido avrà la sua massima espansione e giungerà nella regione centro meridionale. Quindi occhio a martedì anche eh però voglio farvi vedere un'altra cosa. Allora passiamo a quest'altra immagine. Guardate qui che bella immagine. Questo qui è una rappresentazione del vortice polare di cui abbiamo sempre parlato alle diverse quote. Cioè qui si spinge fino alla stratosfera. Vedete com'è? Questa è un'immagine attuale. Vedete com'è abbastanza compatto ebbene si deforma grazie alla grande anticiclone che abbiamo sull'Europa in questo punto ma è una struttura che dal basso verso l'altro è diciamo quasi uguale a se stessa e quindi un cilindro deformato ma compatto quindi voi dovete immaginare che tutto ciò che è all'interno di questo cilindro è eh è freddo e è il freddo diciamo che si concentra nell'emisfero boreale in questo momento prevalentemente è concentrato a latitudini polari. Vedere vediamo questa immagine. Questo qui è invece il ventuno marzo tra cento venti ore cinque giorni guardate che succede il si biloba cioè i nuclei gelidi si tendono a dividersi eh generando quindi una destrutturazione del vortice polare quella che stiamo aspettando da tanto tempo e che ormai considera con la sua fine nel senso che eh quel diciamo il vortice polare che rappresenta l'accumulo di freddo eh le latitudini alle alte latitudini all'emisfero boreale tende naturalmente a a scomparire a distruggersi con l'arrivo del caldo della dell'irraggiamento della radiazione solare incidente eh nell'emisfero boreale dovuto proprio al fatto che arriva la luce e con l'equinozio il primo raggio di sole con l'equinozio giunge al polo nord quindi eh si inizia a distrutturare questo la speranza è quindi che questa distrutturazione giunga bene anche alle alle quote inferiori che quindi dovete immaginare che questi lobby possono quindi andare a a interessare latitudini inferiori vedete questo al contorno ci sono le medie latitudini ancora non interessate da nuclei freddi di particolare rilevanza ma che in futuro si spera possa aggiungere anche da noi quindi eh la prima parte di aprile potrebbe essere questa volta piuttosto fredda e perturbata questo perché si va verso la fine di questo vortice polare che ha accumulato molta molto molto freddo nel senso non aveva eh sendo stato sempre molto forte ha accumulato una notevole quantità di freddo e di conseguenza ve lo dico proprio guardandovi di conseguenza il vortice polare quando durante tutto l'inverno è molto forte è come se tenesse concentrata nella sua diciamo immaginate un cerchio che è all'interno del quale eh un cilindro anzi all'interno del quale è concentrato tutto il freddo eh se non c'è modo di avere grandi scambi meridiani quindi scambi di calore che devono comunque avvenire eh è probabile che al al sopraggiungere della sua destrutturazione questi nuclei gelidi possono aggiungere le medie latitudini e quindi che ci possa essere un inizio primavera cioè un inizio una fase centrale della primavera piuttosto perturbata e fredda questa è una previsione che vi posso dare in linea di massima e che potrebbe avverarsi vi faccio vedere l'ultima immagine vi ricondivido e questo questo è il warming il grande warming finale che dovrebbe condurre alla destrutturazione del vortice polare vediamo se andrà veramente così o meglio andrà sicuramente così perché ormai è fisiologico che avvenga questa destrutturazione destrutturazione però vediamo se questa destrutturazione corrisponderà una l'arrivo di freddo eh che oggi che servono nevicate alle medie latitudini questo lo dovremmo non è assoluto non è certo nel senso che eh una maggiore dinamicità è quasi certa ma ci deve andare bene deve andare a colpire le nostre regioni anche perché c'è bisogno di pioggia di neve c'è bisogno di fenomeni che possano comunque ristabilire un certo equilibrio idrico eh nelle nostre falde soprattutto al centro nord e quindi dobbiamo augurarci l'arrivo di pioggia nevicate perché questa è la la natura la cioè il naturale decorso che deve avere l'equilibrio delle nostre falde durante il procedere della stagione quindi io con questo augurio vi saluto abbiamo avuto anche il nostro incontro serale iscrivetevi al canale YouTube perché dove deve diventare una grande struttura dove possiamo fare delle chiacchierate continue eh un abbraccio a tutti poi parleremo anche di altro oggi c'è stato un forte terremoto eh a largo della costa giapponese nelle stesse località in cui è avvenuto eh eh pochi anni fa e che potrebbe causare un nuovo tsunami ne riparleremo faremo tante discussioni a questo genere per adesso vi saluto eh grazie per aver seguito e attenzione che si inizia a movimentare qualcosa il vortice polare si anima un po' di freddo e neve potrebbero arrivare alle nostre regioni e allora